Musica Musica Diciamo che non è facile sintetizzare su un'esperienza così articolata come quella di Milano 4U. Questo parte da un concetto che è quello di sovvertire il paradigma su cui fino ad oggi si sono basate le iniziative immobiliari. Quindi in realtà addirittura arriva a mettere in discussione la figura dell'architetto all'interno della città e il contributo che può dare. Dico questo perché obiettivamente ci troviamo in un momento dove la società sta repentinamente modificando il proprio assetto anche a fronte di nuove iniziative legate alla connettività di cui l'architetto evidentemente deve rigorosamente tenerne conto. La stagione dei millennials è una stagione oramai iniziata e noi che facciamo parte non di quella generazione ma siamo forse una generazione di mezzo che si è convertita a queste logiche, a queste filosofie deve necessariamente recepire responsabilità di traghettare questo percorso. Che è un percorso complesso, è un percorso che ha modificato l'approccio al punto tale da incidere sulle dinamiche della città. Le piazze non sono più le piazze di prima, i viali non sono più i viali di prima perché la gente socializza in modo diverso. Non che per questo le piazze non siano importanti, sono sempre dei luoghi di estrema importanza. Però devono essere visti con un approccio e con una filosofia che le deve caratterizzare in modo nettamente diverso rispetto al passato. Da questo punto di vista Milano4U quindi tenta di essere elemento di sintesi di tantissime sollecitazioni che sono state prodotte da tantissime persone. La cosa per esempio interessante rispetto ad altre progettazioni è deriva dal fatto che noi abbiamo iniziato il progetto non nel nostro studio, diciamo recependo gli indirizzi dell'operatore, diciamo in questo caso di un fondo immobiliare, ma in realtà abbiamo progettato recependo le mille idee che sono arrivate dalle tantissime aziende, le tantissime realtà intelligenze che si sono inserite all'interno di Milano4U. Insomma alla fine l'ascolto è stata la base di questo progetto e a seguito del quale l'ascolto è venuta fuori una sintesi che ha prodotto un progetto obiettivamente diverso, interessante, ad esempio per il significato dei piani terra. Noi riteniamo che la città sia in buona sostanza il piano terra, con questo non vuol dire che non siano importanti i piani sotto e i piani sopra, evidentemente. Però mentre nelle iniziative immobiliari più canoniche ci si concentra molto sui piani che portano una reddittività più diretta e quindi la vendita degli appartamenti ai piani superiori o ai box ai piani inferiori, in questo caso riteniamo che sia determinante far vivere antropologicamente questa città, questa Milano4U, e quindi riteniamo che la progettazione di piani terra debba manifestare flessibilità, resilienza e capacità di veramente adeguarsi a una realtà che nell'evoluzione porterà da qui al 2020 delle situazioni che non sono, diciamo come si può dire, tutte prevedibili. In questo la nostra iniziativa che si basa su quattro gambe riteniamo possa dare delle risposte. Una gamba è certamente quella del real estate, più canonicamente intesa. Poi abbiamo tutto il tema dell'energia, per cui il Politecnico di Milano ha contribuito con un progetto assolutamente innovativo che permette di dare dei valori aggiunti in termini oggettivi e quindi riusciamo a proporre delle case che non hanno spese condominali e quindi oltre ad esserci un fatto emozionale nell'acquisto di una casa c'è anche un fatto oggettivo. Si compra casa a Milano Foriù perché comunque si annullano le spese mensili che normalmente ci sono all'interno di un condominio. Poi abbiamo tutto il tema del digital, quindi l'importanza della raccolta e elaborazione dei dati con tutto quello che ne consegue qua si aprirebbe un mondo e poi abbiamo tutto il tema del social. Ecco, tutte queste cose qui all'interno dei nostri piani terra, sia outdoor che indoor, perché poi ci sarà una grandissima permeabilità, sono uno dei fondamenti di questa iniziativa all'interno della quale è prevista l'insediamento di circa 3.000 cittadini, 3.000 residenti e un indotto di circa 5.000 persone, considerando che sarà nutrito di un mix funzionale vero, corredato di residenze per anziani, residenze social housing, co-housing, co-working, uffici, sport, commercio e chi più ne ha più ne metta. Grazie a tutti.